Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Prima di cominciare col video vi ricordo che tutti i giorni mi trovate in live sulla piattaforma viola Cioè su Twitch dalle 14 Quindi seppur state vedendo questo video alle 11 e mezza, mezzogiorno, mezza, mezzagiorno e qualcosa Vi ricordo che alle 14 sarò in live su Twitch E soprattutto se ancora non avete visto il video dove regalerò 3 skin Andatelo subito a guardare ragazzi Ve lo metto qui sopra oppure nella descrizione Ora cominciamo col video Come ho detto dal video come ricevere gratis la nuova skin Agente Trinity Vi spiego subito ragazzi Ora praticamente Fortnite ha fatto una collaborazione con Wind3 Sarebbe la compagnia telefonica, DSL eccetera eccetera Facendo questa collaborazione ragazzi ci hanno messo a disposizione questo bellissimo torneo con questa bellissima skin Quindi per partecipare al torneo cosa bisogna fare? Ora lo andiamo a vedere subito, mi raccomando prestate attenzione Andiamo Ed eccoci qua ragazzi Gareggia nella sfida Fortnite Trinity EU Presentata da 3 e Wind3 appunto La versione inglese non ci interessa Giocatori europei Si potrà fare il torneo 14 marzo 2021 Tra poco vi svelo anche l'orario Sali sul bus della battaglia con il tuo terzetto Gioca fino a 10 partite nella finestra torneo di 3 ore I migliori terzetti della regione EU sbloccheranno il nuovo costume Milite Trinity Io ho detto agente, perdonatemi Dettagli della sfida di Trinity La sfida di Trinity è aperta ai giocatori EU, Android e PC Su Android, PC e console I migliori 3333 terzetti sbloccheranno il nuovo costume Milite Trinity E tutti coloro che gareggeranno in almeno 5 partite Sbloccheranno le emote Impatto Trinity E sovraccarico Trinity Quindi regà Già solo con 5 partite riceverete 2 emote La sfida di Trinity inizierà il 14 marzo alle 14 GMT Ho visto già su internet ragazzi Le 14 GMT dovrebbero essere le nostre 3 del pomeriggio Ok, il nostro orario 3 del pomeriggio Tutto sommato è abbastanza fattibile Anche se è di domenica Ma ormai a casa si deve restare Con questi problemi che ci sono ad oggi Tra zona arancione, zona rossa e bla 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 Comunque lasciamo perdere questo Non ci interessa nulla Fino al 17 GMT Che dovrebbe essere le 6 Quindi raga Allora io ho visto su internet che l'orario è questo Cerco di mettervi Ma? Ok, perché quando registro io ci sono sempre dei rumori? Dicevamo Cerco di mettervi l'immaginetta qua sopra dell'orario Delle 14 GMT che ore sono Quindi dovrebbe iniziare alle 15 Sì, alle 15 dovrebbe finire alle 18 Poi ovviamente se non riuscite a posizionarvi Non avvenire la skin Potete comunque prenderlo nel negozio oggetti Il costume del Milite Trinity Poi Ritornando a noi ragazzi Quindi bene o male vi ho spiegato tutto Ok? Vi ripeto Le 14 GMT dovrebbe essere il nostro Orario 15 del pomeriggio Ma è sicuramente così Ho visto anche su internet Poi se internet si sbaglia Non lo so ragazzi Ma bene o male l'orario è quello Quindi raga Io se posso lo farò E addirittura lo streamerò Dalle 3 alle 6 del pomeriggio Ovviamente ripeto Su Twitch dalle 14 Mi trovate tutti i giorni live Ma se qualcosa A domenica Lo farò in live Dalle 15 a sto punto Tipo 3 meno qualcosa 3 meno di 10 3 meno 5 O addirittura alle 15 In punto Inizierò lo streaming Perché sta skin Veramente mi interessa È un orario abbastanza adeguato Per registrare Cioè per fare una live E per giocare Soprattutto Tutto sommato Fino alle 6 ci sta Magari non so Se riuscirò a fare Tutti i 10 round Fino alle 6 Perché forse Le finiremo prima Detto questo Niente ragazzi Grazie mille a tutti Comunque per il supporto Grazie mille a chi mi sta venendo A seguire tutti i giorni Sulla piattaforma viola A chi ogni tanto Mi tagga su Instagram Con le stories Dove mi supportate Nello shop Perché magari vi sto simpatico Come volete bene Eccetera eccetera Grazie mille ancora A tutti di tutto Grazie mille a tutti Quelli che stanno a rinnovare La sub E chi la sta a fare Su Twitch Tutte cose belle Che stiamo facendo Devo davvero ringraziarvi Scusatemi se sentite rumori Ogni qualvolta Che io registro Un cavolo di video Non lo so Perché ma Ci sono sempre Lavori fuori casa mia Va bene così Che di dire ragazzi Vi ringrazio ancora Per il supporto Vi ringrazio per la visione E come sempre Ripeto Vi aspetto tutti i giorni Dal lunedì Al sabato Dalle 14 Su Twitch La domenica Non le faccio quasi mai Le live Ma per questo torneo Forse la farò In tal caso Seguitemi su Instagram Link in descrizione Che vi aggiornerò Sull'andare Della faccenda Di se fare o no O meno La live Domenica 14 marzo Per il torneo Ok ragazzoli belli Quindi ci vediamo Per questo video è tutto Vi aspetto in live Alle 14 Non mancate Mi raccomando Ciao belli